Sono Francesco Fresa, founding partner dello studio di architettura Più Arc di Milano e sono molto lieto di essere tra gli ambassador dell'Italian Design Day. In quest'anno così particolare, parlare del futuro della città vuol dire soprattutto ridefinire e rimmaginare non solo i luoghi del lavoro e dell'abitare, ma soprattutto i spazi pubblici. Penso che dobbiamo ripartire proprio da qui, da quei luoghi di cui siamo stati privati per molti mesi e che oggi più che mai necessitano di cura.